guarda come sto sparando Flakey state fermi cosi eh? un attimo che questo qua lo devo mettere su youtube no no aspettate ancora un po' un secondo portate pazienza che devo vedere Flakey come cazzo sto sparando ... la mia ricerca ha, 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 ha ... ma cacchio fa fare cosi beh play quando ti vedi sto migliore di cappotti da ridere grazie